L'Italia con più di 25 milioni di casi di contagi, uno dei paesi più colpiti dalla pandemia da Covid-19, anche con un elevato numero di decessi pari quasi a 190 mila persone. A poco più di tre anni di distanza dall'inizio della pandemia e a pochi giorni anche dalla dichiarazione di fine dell'emergenza da parte dell'OMS, gli esperti e istituzioni hanno provato a fare il punto della situazione, a che punto siamo e come si può ripartire, in un evento organizzato al Senato dal titolo Covid-19, tre anni dopo, quali impatti sulla salute e sulle prestazioni e il ruolo delle vaccinazioni, promosso dalla senatrice Tilde Minasi in collaborazione con l'European House Ambrosetti e il CEIS dell'Università di Roma Torvergata con il contributo non condizionato di Pfizer. esperti e le istituzioni si sono appunto confrontate per capire come ripartire con una nuova normalità. Medica TV c'è andata per capire come stanno le cose. In collaborazione con SVG avete realizzato una survey su 2300 pazienti che fa emergere alcune importanti indicazioni, anche in riferimento alla fiducia dei cittadini rispetto alle vaccinazioni. Quali sono i dati più importanti che sono emessi? Allora, innanzitutto c'è un livello di fiducia dei cittadini italiani nei confronti della vaccinazione che è ancora molto elevata, è pari al 76%. L'elemento che però desta un po' di preoccupazione è che confrontando i dati della rilevazione 2023 con quelli fatti svolti lo scorso anno, emerge come in realtà la fiducia sia calata di ben 18 punti percentuali. Quindi questo è un elemento di forte criticità su cui anche il Ministero della Salute è chiamato a intervenire, proprio per cercare di contrastare l'esitazione vaccinale e promuovere lo strumento della vaccinazione. È stato un bellissimo confronto e anche io devo fare i complimenti a European House Ambrosetti e al CEIS per aver condotto questa indagine che è scaturita in questo documento. Ovviamente fare il punto sulla stagione del Covid e sui terribili tre anni che abbiamo vissuto, valutando con dei dati scientifici quelli che sono stati, quella che è stata l'efficienza e l'efficacia delle variazioni messe in campo, è importantissimo perché questo ci potrà portare ad evitare quelli che sono stati gli errori commessi durante la pandemia e a prepararci ad un'eventuale crisi che è da affrontare, speriamo mai o comunque non nell'immediato, e non farci trovare impreparati come è stato durante il periodo della pandemia. Ovviamente c'è tanto da fare, bisogna puntare sulla ricerca, sulla prevenzione, sono questi appunto i pilastri per far sì che i cittadini si ammarino di meno, che poi questo comporta un costo minore per la sanità. La ricerca non deve essere mai vista come un costo ma come un investimento, perché poi porta i suoi frutti in termini di minor malattie e di un aumento anche del pil e della crescita economica, perché se hai una società sana ovviamente questo ti fa anche aumentare la crescita del territorio. Senatrice, è stato annunciato che domani finalmente il nuovo piano vaccinale potrebbe diventare effettivo. un suo commento su questo e sul fatto che comunque nel nuovo piano vaccinale non c'è il Covid, il vaccino anti-Covid. Sì, in teoria sarebbe potuto andare e essere stato già approvato, però poiché le regioni hanno chiesto più finanziamenti come è stato detto e quindi c'è stata questa interlocuzione con il MEF, domani sicuramente si arriverà all'approvazione. Il non aver inserito la vaccinazione del Covid è una scelta di buon senso perché poiché ancora non sappiamo le evoluzioni che possono esserci e quindi se sono necessari dei cambiamenti, quindi si è pensato di far fronte alla vaccinazione con delle circolari dove poter dare le varie comunicazioni. I cittadini che sono vaccinati e hanno completato il ciclo di vaccinazione continuano a essere più favorevoli alla vaccinazione anche in vista di un eventuale richiamo se fosse raccomandato dal Ministero della Salute. Indubbiamente è venuta meno in questo periodo un po' la paura del contagio e della pandemia e anche un po' di quella che viene definita anche vaccine fatigue, cioè quindi un po' la fatica nel continuare a sostenere un ciclo di vaccinazione quando comunque non è percepita l'emergenza sanitaria come lo è stato in passato. Ci sono anche degli aspetti legati a che cosa si può fare per aumentare la tibucia e la propensione alla vaccinazione? Sì, tutti i cittadini richiedono maggiore informazione e migliore informazione da parte delle autorità competenti, quindi in primis il Ministero della Salute ma anche le ASL, anche un maggior dialogo con il proprio medico di medicina generale o il proprio farmacista di fiducia, sono visti come strumenti in grado di contrastare l'esitazione vaccinale ed è per quello che siamo contenti che nella nuova bozza di piano nazionale uno dei pilastri di questo nuovo piano sia appunto la comunicazione. Bisogna adesso soltanto capire quali strumenti e quali azioni concretamente si possono mettere in atto su questo fronte per cercare di far capire ai cittadini sia il valore della vaccinazione e sia quelli che possono essere i rischi di andare incontro a una malattia che in realtà è prevenibile attraverso il vaccino. L'impatto economico della vaccinazione, avete presentato dei dati che mostrano anche questa relazione, ci spiega in che cosa consiste? Con le analisi che abbiamo portato avanti, nello specifico per la vaccinazione anti-Covid, noi siamo riusciti a dimostrare con uno studio pubblicato su una prestigiosa rivista scientifica che a seguito dell'investimento che c'è stato per raggiungere la copertura vaccinale ed essere stato in grado di raggiungere la copertura vaccinale che ha permesso poi la riapertura di tutte le attività economiche del paese ad agosto 2021 anziché a dicembre 2021, ha permesso al paese, dati alla mano, di risparmiare circa 200 miliardi di euro in termini di PIL, di prodotto interno lordo, tra il 2021 e il 2022. Una volta di più, accanto a tanti altri studi che abbiamo pubblicato nel corso degli anni e che sono stati pubblicati da altri centri di ricerca in tema di vaccinazione in generale, si dimostra quanto l'intervento in termini di prevenzione e di vaccinazione nello specifico è da definirsi forse come il migliore investimento che si può fare nel campo sanitario. È vero che devi fare un investimento iniziale importante ma alle ricadute tanto in termini di salute, quanto sociali, quanto economiche e finanziarie tutti gli studi in tutti questi anni hanno dimostrato essere importantissimi. C'è un impatto importante in termini chiaramente di miglioramento della qualità di vita da parte dei pazienti accompagnato da riduzione dei costi a carico delle strutture ospedaliere e sanitarie in generale ma anche una fortissima ricaduta perché riduci le disabilità, eviti le disabilità anche in termini di costi indiretti a carico dell'Inps ma anche e soprattutto, per questo parlavamo dei dati riferiti al prodotto interno lordo, una riduzione della perdita di produttività, la possibilità alle persone di continuare a lavorare, contribuire alla produttività del Paese e comunque anche a continuare ad attrarre investimenti. Quindi credo proprio che, alla luce di tutti i risultati, investire sulle vaccinazioni e sulla prevenzione sia uno degli obiettivi principali che garantiscono la migliore costo-efficacia dell'intervento ma anche un'importante ricaduta economica e sociale per il Paese.